Mal tempo, situazione critica in provincia di Catanzaro, in particolare nel Lamettino, dalle 23 si registrano problemi soprattutto alla viabilità dovuti alle condizioni meteoavverse nel comprensorio, frane, smottamenti, allagamenti lungo le vie principali, alle 4 circa, considerando le numerose richieste pervenute alla centrale operativa di Catanzaro inviate nella zona di Lamettia Terme, è stato necessario attivare ulteriori squadre rispettivamente dai comandi di Cosenza e Crotone. Si apprende, sul posto sono state inviate unità SAF fluviali che con gommoni pneumatici in dotazione stanno provvedendo a raggiungere alcune abitazioni rimaste isolate a causa dell'allagamento delle sedi stradali e in effetti la SS 280 a direzione Lamettia Terme è interrotta all'altezza del centro commerciale Due Mari con passeggeri tratti in salvo. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza. Isolato il comune di Maida per l'esondazione di un torrente, i vigili del fuoco con l'ausilio di mezzi messi a disposizione da privati provvedono anche a liberare percorsi alternativi bloccati da detriti.